La mia passione per le calzature nasce in famiglia, in quanto mio padre è stilista di scarpe da ormai 35 anni. Il motivo per il quale Mini mi ha selezionato è il fatto che il mio design è proiettato al futuro e ho un'accuratezza e una propensione alla scelta di materiali molto innovativi. Il mood che abbiamo stabilito in questa collaborazione è il futurismo. Ho cercato quindi di creare dei materiali inediti che durante il giorno attirano la luce del sole e durante la notte la sprigionano. Una delle mie linee guida durante il mio percorso è il fatto che il prodotto è un prodotto che si deve distinguere dalla massa. Immagino Milano sicuramente più sostenibile, più ricco culturalmente, come se fosse una vera e propria metropoli. Sono Alberto Premi, cerco di destrutturare tutte quelle che sono le forme classiche, portandole verso quello che è il mio mondo, il futuro.